Cari lettori e lettrici, la novità letteraria che sto presentando è un romanzo di narrativa contemporanea, una storia vera, una testimonianza toccante e personale degli eventi drammatici che si sono verificati a Tripoli durante la guerra dei sei giorni, quando la comunità ebraica fu oggetto di violenze e persecuzioni. La storia offre un'opportunità unica per comprendere in appieno l'orrore e le conseguenze umane, fornendo una visione completa degli eventi e delle dinamiche di un periodo storico poco conosciuto. Leggendolo i lettori possono ottenere una comprensione più ricca della vita in una città in trasformazione e delle aspirazioni umane universali di speranza e cambiamento. La trama del libro Notturno libico dello scrittore Raffaele Gena, pubblicato dalla casa editrice Solferino, è la seguente. Tripoli, 1967. La guerra dei sei giorni innesca una spirale di violenze contro l'intera comunità ebraica della città, con caccia all'uomo e assalti casa per casa, tumulti, saccheggi, sinagoga incendiate. Comincia un esodo straziante, con migliaia di persone costrette a fuggire, precipotesamente con una valigia e venti stelline in tasca, abbandonando in Libia ogni cosa. Due di quelle persone sono Giulio e Jasmine, con il loro figlio di pochi mesi. La coppia riesce a scappare in Italia, ma Giulio deve tornare in Libia per cercare di salvare o di vendere almeno una parte dei beni di famiglia che là sono rimasti. E' allora che viene arrestato e incarcerato senza motivo. Per i due coniugi è l'inizio di un viaggio all'inferno e ritorno, mentre lui lotta per resistere tra gli orrori del carcere e lei combatte per farlo liberare. Una storia di trame oscure in cui si incrociano agenti e spie del Mukha Bharat, la polizia segreta libica e poi ministri, ambasciatori, capi tribù, avvocati e lateralmente il Mossad. Mentre Giulio e Jasmine cercano di mantenersi fedeli a una promessa no scritta, non superare mai l'invalicabile linea rossa imposta dalla propria dignità. Dopo un silenzio, durato oltre 50 anni, la loro storia d'amore e di coraggio rivive in queste pagine come una testimonianza sofferta e personale, ma anche come una ricostruzione vivida delle violenze e delle persecuzioni in un periodo buio, ancora tutto da scrivere, nella Libia di fine anni 60. La vita si fa romanzo, un romanzo vero. Grazie per l'attenzione e buona lettura. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensi della trama del libro presentato e se hai voglia di condividere il tuo pensiero, lasciami un messaggio. Celebra la magia della lettura condividendo questo video ed aiutami a diffondere l'amore per i libri. A te non costa nulla, per me sarebbe un bel gesto di gratitudine. Ricorda, ogni piccolo gesto può fare la differenza. Per non perdere le novità letterarie, iscriviti al canale.